Buonasera Massimo Polidoro, buonasera ad Alberto Angela, ciao Alberto, bentornato. Guardate, vi voglio mostrare subito questa bellissima copertina, una specie di diogene con la lanterna che cerca la verità. Quella è tua sorella in copertina, Alberto? No, immagino non sia tu. Io non avevo i capelli lunghi, sì, mia sorella bellissima, qui aveva pochi anni, eravamo a Parigi e lui questa foto praticamente riassume il tutto, cioè il fatto che potesse spiegare persino a un bambino, una bambina e farlo meravigliare. E quando abbiamo fatto con mia sorella la postfazione, che non è la prefazione, si trova alla fine, giustamente, umilmente, perché questo non è un mio libro. Al libro di Massimo Polidoro c'è una postfazione dei figli di Cristina e di Alberto. E mi ha colpito molto un fatto che lei ha scritto, appunto, mi ricordo quella foto in cui c'era mio papà che teneva questa lanterna, per me è stato folgorante quella manina che viene stretta, diciamo, è un passaggio anche simbolico di conoscenza e ho detto, guarda, questa deve essere la foto della copertina e anche la meraviglia del tutto è un termine che riassume proprio tutto, veramente, anche il concetto del lavoro di mio papà. Eh sì, in realtà è proprio vero, è una copertina che spiega tanto Massimo, perché in fondo se ci pensate, Piero Angela ci ha insegnato e adesso Alberto, ma proprio questo, a imparare a vedere la meraviglia che c'è in ogni cosa. E se stessimo attenti, la troveremmo davvero la meraviglia in ogni cosa, perché esiste, non è facile vederla, ci vuole una lanterna, ci vuole una guida, ma siamo stati fortunati. Siamo stati fortunati, questa è veramente una mappa che lui ha disegnato per noi, come un cielo che vola dall'alto, vede le strade, vede i sentiri migliori, i precipizi e poi ci spiega, guardate, questa è la strada migliora. Quanti anni hai lavorato con Piero? Beh, io Piero lo conosco quando ho 18 anni, perché grazie a lui veramente ho potuto intraprendere una strada. Ma di questo libro non sapevi niente neanche tu? Allora, dopo che mio papà è mancato, è uscito un libro che lui stava ultimamente... In cui abbiamo parlato qua, certo. E quindi è uscito quel libro. Poi, qualche mese fa, mia sorella mi chiama e dice, ma lo sai che Massimo sta scrivendo un libro su papà, su Piero? Ah, ma che bella cosa. Cioè, ma no, ma guarda che è qualcosa che stavano scrivendo assieme da tanto. E lì scopro un libro che mio padre stava scrivendo e nessuno di noi sapeva, tranne lui ovviamente. Erano anni che si chiamavano, lui registrava e mio papà gli spiegava, gli dettava dei concetti, eccetera. E lui ha fatto un lavoro immenso di raccogliere anni e anni di racconti. Di confidenze di racconti. Di confidenze, eccetera. In parte filmate e in parte scritte. Sì, perché comunque dovevo tenere nota. Lui voleva proprio fare un libro dove... Una specie di enciclopedia. Dire quello che pensava lui per una poca. Su tanti argomenti. Adesso facciamo così, facciamo così. Scusami, solo una cosa, che poi la cosa interessante è che mettendo a posto le carte, è riemersa scritta a mano proprio l'introduzione in cui diceva, questo probabilmente è il mio ultimo libro. Quindi a questo punto era un suggello pazzesco. E questo libro è il secondo libro che esce dopo che mio papà è morto. È incredibile. È le sorprese che fa Piero. Eh sì. Facciamo così. Abbiamo la fortuna di avere appunto alcuni frammenti filmati del dialogo, con Massimo Polidoro e Piero Angela. Mandiamo il primo che abbiamo scelto, che spiega parecchio. Guardiamolo. Se devo fare un libro, faccio così. Metto tutto quello che cavolo... Brainstorming. Brainstorming. Alla fine dico, allora, quali sono le cose che sono interessanti? E le raggruppò per categorie. Quindi l'atomo, l'universo, cioè fisica, cioè biologia, psicologia, eccetera. E già comincia a delinearsi una scaletta. La gente cerca l'immortalità. L'immortalità per adesso non c'è. Forse neanche in futuro. Però se ci dovesse essere, è lì, nel cervello. La nostra vita bisogna viverla intensamente. Qualcuno ha detto, sembra quasi banale, però è vero. Bisogna viverla come se fosse il primo giorno e l'ultimo giorno. La straordinarietà di queste immagini, oltre al contenuto, di quello che ogni parola di Piero è preziosa, è che sono anche immagini inedite, mai viste prima, perché le aveva solo Massimo. Nei altre poi. Sì, sì, ne ero tante. Ma eravamo proprio nella cucina, perché lui amava stare in cucina. Devi fare un documentario allora su Piero, con queste immagini. Adesso vediamole. Guarda, io arrivo paracadutato, perché sono tutte cose che hanno fatto loro due come complici. Però è molto bello ritrovare il pensiero di mio padre. Quando ho letto il libro, perché per me era una cosa nuova, è stato veramente emozionante leggere, ma sentire chiaramente la sua voce. Perché lo stile è quello. E lui ti parla come se a un certo punto stesse a tavola, appunto in cucina con te, incomincia a parlarti di universi, origini della vita, di che cos'è l'amore, il futuro come sarà. Sai le domande che ognuno di noi vorrebbe fare a un saggio? Ecco, questo è il disco del colloquio. Non perdetevelo davvero. Guardate che è un libro bellissimo. E bisogna dire tra l'altro che è riuscito a scrivere un libro che ha uno stile così facile. Facile, scorrevolissimo. Che stai arrivato a tante tante pagine, decine di pagine, che scorrono rapidamente. Dunque, Piero aveva uno sguardo sul tutto che ci ha comunicato da sempre, insomma. Ma proprio tutto perché pensava che tutti noi facessimo parte di un tutto. Non solo perché il patrimonio genetico che abbiamo in comune con molte creature è importante. Abbiamo della gallina più del 60%. Sì, esatto. Della banana abbiamo il 50%. Della banana? Eh sì. E di una mucca al 65%. Della mucca un po' di più, sì. Diceva che il nostro più antico antenato è un sasso. Eh sì, quello è proprio il punto di partenza. Il mio più antico antenato è un sasso, come un sasso, Piero. Eh sì, noi veniamo dalle supernove, di tutti quei frammenti sparati nel cosmo che con il tempo sono diventati esseri umani, capaci di guardarsi indietro e di vedere da dove sono arrivati. e diceva che anche abbiamo con certi vermi il 30% dei geni e gli alberi sono sempre stati nostri cugini. Sì, un po' silenziosi ma insomma. Ma questo per dire anche l'attenzione che si può dedurre da questi giochi di numeri a quello che è l'ambiente, a quello che è il nostro pianeta. Lui sulla crisi climatica, diceva, l'ha detto anche qua, che è la più grande sfida di fronte alla quale ci troviamo, non era ottimista, a dire la verità. Ma guarda, innanzitutto ne parlava già negli anni 70. Lui aveva questa capacità di quei capitani che vedono in lontananza la burrasca arrivare. Ma c'è un capitolo che ne parla descrivendo il futuro. E dicendo una cosa molto importante, il futuro non è scritto, il futuro lo scrive ognuno di noi con le scelte che farà. Si farà una certa scelta e ci sarà un futuro e un altro e l'altro. Ecco, quindi è questo. Si può, se ci mettiamo tutti d'accordo, indirizzare questo grande veliero sul quale ci troviamo che viaggia nel cosmo verso mari più tranquilli. Questo lo possiamo ancora fare. È proprio qui che l'uomo dimostrerà di essere o meno l'uomo. Se è vero che dopo milioni di anni di evoluzioni noi pensiamo di essere animali intelligenti, saggi, ecco, questo è il momento di provarlo. Più di qualunque altro momento. Sì, insomma, sarebbe bello che ciò accadesse. Devo dirti che ogni giorno, proprio ieri, ho dato un'occhiata alla rivista Nature, che è l'ultima uscita, su sollecitazione del direttore di oggi, Carlo Verdelli. Mi metto a scrivere una cosa. Insomma, ci sono dei dati scientifici impressionanti di quello che ci aspetta da qui ai prossimi vent'anni, non ventimila, vent'anni, vent'anni domani, anzi a ieri. Guarda, forse anche prima. Forse anche prima. E facciamo finta di niente. È abbastanza incredibile, insomma. Allora, quello che è importante, è chiaro, diffondere conoscenze, ma ancora di più, ed è una cosa che Piero faceva, anche noi in nostri programmi, è quello di diffondere il pensiero scientifico, il modo di ragionare, il modo razionale di affrontare un problema. Puoi anche non avere le conoscenze, ma se tu le sai affrontare in modo corretto, razionale, scientifico, la soluzione non ti sfugge. Però dobbiamo farlo tutti. Ecco perché è importante la divulgazione, in televisione, con i libri, eccetera. Diffondere non tanto le conoscenze, ma il modo di pensare scientifico. Come dicevo prima, Massimo, è un'enciclopedia del pensiero di Piero Angela, questo tuo lavoro. E infatti in questo libro, Piero, parla non solo di argomenti scientifici, ma parla proprio dell'uomo. E per la prima volta affronta questioni, diciamo, anche su temi urticanti, contemporanei, importanti. Parla di fede religiosa, di amore omosessuale, di intolleranza. Certo, perché lui aveva proprio uno sguardo sull'essere umano come quello di un animale, diciamo pure, come gli altri, che però ha una storia e ha un'evoluzione straordinaria. Però, se noi iniziamo a interpretare le cose solo dal punto di vista culturale, che magari è specifico, nel posto in cui noi viviamo, rischiamo di perdere di vista questo fatto che noi siamo tutti quanti esseri umani e tutti quanti abbiamo le stesse caratteristiche. Invece lui ci teneva a sottolineare. Sai che nel libro, lo sai perché l'hai letto, tuo padre parla della vita extraterrestre e questo non me lo sarei aspettato. Non gli UFO in quanto tali, però dice che con molta probabilità esiste una vita extraterrestre. Guardi, il ragionamento è molto semplice. ci sono centinaia di miliardi di sistemi solari in una galassia, centinaia di miliardi di galassie visibili, ma vuoi che solo qui sia accaduto la nascita della vita? La chimica della vita è immediata. Tra l'altro io e mio padre abbiamo scritto anche un libro sull'origine della vita, eccetera. Se ci sono le condizioni giuste, la vita evolve. Poi, naturalmente, bisogna vedere come evolve. Quindi è molto probabile che su altri pianeti, è verosimile, tutti i ricercatori che si occupano di questo dicono che dal punto di vista della percentuale delle probabilità è assai probabile che altrove sia nata vita. Cosa diversa sono gli UFO. C'è la presenza qui, che sono un altro argomento. Quindi diciamo che... Anche se adesso hai visto questo esibio, il professore di Stanford ha appena detto che secondo lui ci sono e vivono fra noi. Io ogni tanto, guardando alcuni telegiornali, ho questo sospetto. Qualche alieno. Anche una speranza, devo dire. Lo sai, poi c'è anche un'altra cosa, perché si pensa sempre alla vita su altri pianeti, lo si vede in tanti film. Si pensa poco al fatto che magari tu eri su un pianeta la vita è ancora a livello di muffe, di alghe, eccetera. oppure che sia già estinta. Certo. Cioè bisogna trovare... Un equilibrio. E poi, diciamo, la possibilità di contattarli. Chiaramente la scienza va avanti con le prove e con delle prove che siano verificabili. È un po' come un'indagine scientifica. Assolutamente. E poliziesca. Deve avere delle prove. Senti, Alberto, mi piace mostrare un'altra clip a proposito della fortuna. Perché, sì, noi a volte, come dire, indulgiamo nel pessimismo, no? Tuo padre, che è un uomo che ha vissuto sostanzialmente il Novecento nella sua totalità, quindi ha conosciuto la guerra, ha conosciuto i momenti più bui della storia, in realtà dice che non solo siamo stati fortunati a nascere umani e non sassi o alberi, ma dice che in quanto umani abbiamo avuto la fortuna delle fortune e ci spiega lui il perché. Non voglio anticipare nulla. Prego, la mandiamo in onda. Grazie. È arrivata la fine della corsa. Queste cose a me non... Sì, io ho comunque questa sensazione, anzi questa certezza che tutti noi siamo vissuti nel momento migliore di tutta la storia dell'umanità. mai nessuno ha avuto tutte le cose che noi abbiamo avuto in questa generazione e probabilmente mai nessuno vi farà così bene come siamo vissuti, sia pure con tutte le contraddizioni, lo sappiamo, ma anche perché abbiamo assistito a un fiorire del mondo, proprio attraverso anche e soprattutto la scienza e la tecnologia. Quindi voi che siete parte di questo mondo che apprezza la razionalità, datevi da fare, perché noi abbiamo fatto il nostro lavoro. Fate voi. Insomma, io ho avuto tanta fortuna così a poter conoscere il tuo padre e devo dire ogni volta mi emoziona tanto. Insomma, ci manca e posso immaginare quanto manchi a voi, ma insomma è proprio bello. è una persona di meraviglioso valore e anche di ironia. Assolutamente. Il senso dell'umorismo. Il senso dell'umorismo. Voi l'avete sempre conosciuto, molto English, molto educato e molto disponibile. Poi, chiaramente, nella vita quotidiana era una persona che amava le barzellette, l'umorismo ed aveva sempre, sempre un sorriso. Riusciva sempre a trovare una soluzione a qualunque problema. Di macroeconomia come del quotidiano e questo, sì, è una cosa che certamente manca nel senso che avere un riferimento, una persona che ti sa dare una risposta, magari col sorriso e poi finisce con una battuta e scoppia a ridere. Sì, certamente è una cosa che manca. Per non parlare dei... racconti straordinari che ci ha fatto qui tante volte, parlare dei viaggi, degli scherzi che gli facevi tu mettendo gli animali in giro per casa. Vabbè, insomma, qualunque cosa. Una vita decisamente avventurosa anche fra le mura domestiche. Tra l'altro, bisogna dire che partiva con lo zaino a cappello, andava in Himalaia, nei deserti. E ultimamente, l'ultimo viaggio che voleva fare era andare oltre il circolo porare artico. Noi abbiamo cercato di fermarlo, ma lui è partito ugualmente. Quindi era uno spirito, io credo, facesse parte di quella generazione che non ha paura. Eh, certo. Non ha paura perché ne ha vissute, ma anche... Tante tante che... Sì, riesce a guardare in faccia il pericolo e a affrontarlo. E a trovare la meraviglia in ogni caso. Il vostro speciale insieme sull'allunaggio era meraviglioso. Cosa stai preparando adesso? Dunque, noi stiamo lavorando su Ulisse, su NOS, su Passaggio Nord-Ovest, lo stiamo rinnovando. Stiamo lavorando anche e soprattutto su NOS, perché chiaramente è la prosecuzione del viaggio che ha fatto mio padre nel campo della divulgazione, facendo un programma che è la prosecuzione senza essere una copia o qualcosa di diverso. E io devo dire una cosa molto bella. Tutti hanno accettato con entusiasmo la prima serie di partecipare, di lavorare nella prima serie perché abbiamo unito la redazione di Superquark che era rimasta orfana. Ho detto, ragazzi, continuiamo. E poi anche gli ospiti, c'è un entusiasmo e questo è il frutto dell'entusiasmo che ha seminato il mio padre. Lo credo, non sento proprio a crederlo. Senti, abbiamo sentito l'ultimo appello accorato, di Piero, accorato o no, appello anche a lei che l'ho scanzonato, però sentito, abbiamo fatto il nostro, lo fatelo voi rispetto alla scienza. Ma come vi spiegate invece lo scetticismo così incredibilmente diffuso che c'è oggi? Peraltro, scetticismo, parlavamo all'inizio della puntata con il professor Burioni, basta pensare allo scetticismo nei confronti dei vaccini che hanno salvato centinaia di milioni di vite due anni fa. il rifiuto proprio di fatti che dovrebbero essere comuni, che non hanno nessun tipo di colore, ma la scienza non ha colori, eppure c'è un rifiuto perché viene in qualche modo trasformata in una polarizzazione. C'è chi si sente speciale, c'è chi si sente magari più dotato di altri perché ha visto qualcosa che gli altri non vedono o crede di averlo visto e con questo crea un seguito, si crea un seguito sui social in particolare era una cosa che con Piero cercavamo sempre di rendere evidente, di svelare molto spesso. Tu me te la spieghi Alberto. C'è sempre stata, c'è sempre stata l'irrazionalità fin dalla preistoria, l'inspiegabile che ha poi una spiegazione. Quello che trovo meno comprensibile è che da quando esiste il pensiero razionale scientifico si parli ancora di teoria dell'evoluzione. non è una teoria, sono dei fatti. Parleresti mai della teoria della matematica? No, è uno più uno uguale sempre due. Ecco, ma soprattutto quello su cui noi ci concentriamo proseguendo la linea di mio padre è proprio quella di seminare il modo di pensare scientifico, razionale che noi abbiamo in tanti settori quando dobbiamo vedere non so se per un lavoro quanto si guadagna ma conviene fare questo viaggio ma l'albergo e lì siamo tutti. solo sulla convenienza economica quello è uno però tante altre cose subito capiamo se ci piace però su altre no ora ci sono le grandi domande chiaramente ci sono delle domande che non hanno risposte eccetera però ragazzi come diceva non bisogna avere la mente così aperta che alla fine ti cade il cervello per terra ecco questo è un po' e a proposito prima dicevi per concludere della sua disponibilità e della sua voglia di dare risposte a tutto c'è un frammento in cui dà anche una risposta a una domanda fondamentale cioè sia nato prima l'uovo o la gallina dura sette secondi quindi ascoltiamolo bene nato prima l'uovo o la gallina che cos'è una gallina la gallina è la strategia di un uovo per produrre un altro uovo la gallina è la strategia di un uovo per produrre un altro uovo mi pare grazie di cuore Piero Angela La meraviglia del tutto edito da Mondadori conversazione con Massimo Polidoro grazie Massimo grazie Alberto fate abbracciare grazie Alberto Angela grazie a tutti